bravo sei in silenzio radio subito tra i preferiti il nuovo sito italiano che abbiamo lanciato ieri con tutte le notizie in tempo reale sul mondo di Call of Duty www.amantecnologia.it trovate il primo link in descrizione partiamo subito ieri hanno aperto i server alle ore 18 per quanto riguarda la beta di Black Ops Cold War ieri e oggi sarà possibile giocarla soltanto per coloro che hanno il preorder su PS4 molto probabilmente questa sera si apriranno appunto i download per l'open beta che inizierà domani su PS4 quindi rimanete sintonizzati vi spiego un po' che cosa accadrà praticamente ieri il level cap era fermo a livello 16 quindi avrete la possibilità di arrivare e livellare solo fino a livello 16 questa sera sarà aumentato il level cap al 25 e anche tra il 10 e il 12 di ottobre sarà fino a livello 25 le mappe saranno sempre le stesse Miami, Satellite, Crossroad, Mosco, Armada e sarà aggiunta la nuova mappa che vi avevo svelato nei giorni passati Cartel ieri e oggi potrete giocare le modalità deathmatch a squadra uccisione confermata, dominio e armi combinate dominio che permette di giocare fino a 24 giocatori questa sera sarà aggiunta la nuova modalità scorta al VIP mentre nel fine settimana quindi tra il 10 e il 12 sarà aggiunto armi combinate assalto la nuova modalità Fireteam molto probabilmente arriverà la prossima settimana non appena ci sarà la beta anche sulle altre piattaforme modalità con 40 giocatori composta da 4 team da 10 dove le squadre dovranno andare a prendere appunto la bomba all'uranio impoverito e quindi cercare di farla esplodere la beta al momento indica che il livello massimo raggiungibile è il 41 ma molto probabilmente e molti infatti già stanno cominciando a vedere dai file di gioco sembrerebbe che si potrà arrivare nel gioco completo a livello 55 rimanete sintonizzati perché poi tornerò appunto su questa notizia trovate sul mio sito amantecnologia.it approfondimenti sulle armi sui perk sugli equipaggiamenti sul fov perché c'è il fov fino a 120 infatti il gioco cambia letteralmente come visuale una volta attivato se volete recuperate anche la live di ieri sera dove appunto vi ho fatto vedere come impostare il fov e come cambia letteralmente il gameplay giocando ma ieri sera è arrivata anche la nuova mini patch patch interna per quanto riguarda le armi di modern warfare e di warzone innanzitutto è stato risolto un problema per cui i giocatori potevano sopravvivere nel gas rimanendo sul sistema di viaggio veloce della metropolitana e sono state depotenziate le armi come vi avevo annunciato ieri la S-VAL, l'SPR 208 e a sorpresa anche l'SKS allora sull'SKS c'è stata una riduzione alla velocità ADS per mirini a zoom variabile l'ADS sarebbe la modalità di puntamento quindi il tempo che voi impiegate per portare l'arma nella modalità mirino quindi questa è stata ridotta in termini di velocità sulla S-VAL come prevedibile è stato risolto il bug per cui i colpi SSP 10R potevano consentire la penetrazione dei proiettili attraverso più muri vi ho fatto vedere che lanciando appunto la tracciante come equipaggiamento vedevamo i nemici attraverso 2-3 muri e si poteva sparare attraverso mille superfici era veramente buggata quindi questo problema è stato risolto ma il check-in è stato veramente tanto depotenziato l'SPR 208 apro e chiudo parentesi ma le armi prima di essere rilasciate ragazzi vengono analizzate da Activision oppure no? perché mi sta cominciando ultimamente a venire il dubbio ne abbiamo parlato anche ieri live esce il Bruen e diventa l'arma meta e magicamente viene completamente nerfata esce il Bruen e diventa l'arma meta e viene nerfata escono le nuove armi S-VAL e l'SPR 208 soprattutto il check-in diventa un'arma meta e viene completamente depotenziato non riesco letteralmente a capire la cosa cosa ancora più strana dato che il check-in è uscito veramente pochissimi giorni fa vediamo allora che cosa è successo nel nuovo S-PR 208 ha aumentato il flinch minore riduzione della velocità dell'ADS come l'SKS nella modalità mirina zoom variabile l'arma quando viene movimentata vicino al giocatore durante l'ADS quindi punta molto più lenta è una piccola riduzione proprio alla velocità generale di puntamento quando utilizzerete le munizioni .300 e .338 avrete sempre una riduzione della velocità DS quindi ancora più lenta in modalità mirino e addirittura la riduzione della velocità del proiettile questo era tutto quello che vi volevo dire nel nuovo video informativo e giornaliero sul mondo di Call of Duty trovate approfondimenti, notizie e tutto quello che volete in merito alla beta e sul depotenziamento delle armi sul mio sito internet www.amantecnologia.it mettetelo subito tra i preferiti e fatevi anche l'icona sul desktop del cellulare noi ci vediamo alle 13.30 in live su Twitch e domani ore 7 qui su YouTube con il nuovo TGCod